Il sindaco sul gelato quindi dopo mezzanotte si può non spomaggiare? Io amo il gelato alla follia e quando si ama, si ama sia di giorno che di notte, quindi è del tutto evidente che se c'è stato un errore da parte nostra, questo errore è già stato corretto, il gelato i milanesi, i non milanesi, i turisti, chiunque a Milano può mangiare di giorno e di notte comunque, questo è quello che ho detto già ieri, questo è quello di cui sono convinto ed è tutto evidente che purtroppo c'è stato forse un errore di interpretazione, un errore di scrittura di una delibera che abbiamo già rivisitato e rivisto. Quello che mi interessa dire è che anche ieri, anche sabato era possibile mangiare il gelato di giorno e di notte e devo anche dire che gustarsi un gelato la sera e anche la notte in giro per la città è splendido e quindi chi ama il gelato non potrebbe, io amo il gelato, non potrebbe porre limiti a questo beneficio per tutti. Il sindaco apprezza il gelato, apprezza anche l'assessore D'Alfonso? Chi vi sta parlando? L'assessore al commercio D'Alfonso. C'è una decisione presa dall'assessore, una decisione presa dopo un confronto, probabilmente si è sottovalutato un problema che abbiamo superato e adesso si va avanti. Grazie.